Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di Polkadot, che cos'è, perché viene definita spesso un layer 0, quando di solito si sente parlare di layer 1, layer 2, come funziona il suo algoritmo per la gestione del consenso, quindi per la sicurezza, e poi andremo a chiarire questo concetto di parachain, e infine vedremo anche come poter partecipare attivamente per supportare una di queste parachain, magari un progetto che ci piace, al fine di poter ottenere eventualmente i benefici che queste ci possono dare. Prima di iniziare vi chiedo se state apprezzando il video, se vi piace questo genere di contenuti, di mettere un bel like e di iscrivervi al canale, così mi supportate anche qua su YouTube. Detto questo, possiamo subito partire! Polkadot è un progetto che ha l'ambizione di creare un grande ecosistema, formato da tante blockchain distinte. Queste blockchain prendono il nome di parachain, semplicemente perché sono delle blockchain costruite al di sopra di Polkadot, ma in realtà per l'utente finale, quindi per noi utilizzatori, dovete pensarle quindi come delle blockchain a tutti gli effetti separate e distinte. La cosa bella è che sono compatibili tra di loro, questo vuol dire che c'è la possibilità di inviare in modo piuttosto veloce e facile i propri asset da una blockchain all'altra, un po' come se ci fossero tanti bridge che ci permettono in modo piuttosto facile e veloce di portare i nostri asset da una blockchain all'altra in modo che possiamo eventualmente spostarli e farli fruttare dove più crediamo. Polkadot gestisce il problema del consenso, quindi gestisce la sua sicurezza, tramite un algoritmo che prende il nome di Nominated Proof of Stake, che è semplicemente una variante della Proof of Stake, quindi ne ho già parlato in un video apposito della Proof of Stake, quindi ve lo lascio qui in alto a destra, potete cliccarci e andarlo a vedere nel dettaglio. In generale la Nominated Proof of Stake è una variante di questa Proof of Stake dove c'è la distinzione tra i validatori, che sono coloro che effettivamente validano i blocchi e quindi generano dei nuovi blocchi per la blockchain di Polkadot, e i nominatori, che invece sono la maggioranza degli utenti, che semplicemente senza doversi costruire il proprio hardware per la validazione, che comunque richiede un certo tipo di setup, quindi richiede che il computer sia sempre acceso, che ci sia una buona connessione, un buon storage, quindi non è da tutti, mentre i nominatori sono degli utenti normali che banalmente detengono DOT all'interno del proprio wallet, vogliono metterli in staking senza però avere un nodo validatore, quindi vanno a nominare fino a 16 validatori, e poi magari vi lascio il link per vedere come effettivamente poter fare quest'operazione, e si va ad ottenere degli interessi, che più o meno sono tra il 12 e il 14% annuo, sui propri DOT depositati, quindi si scelgono fino a 16 validatori ai quali si affidano i propri DOT, e questi validatori producono i blocchi, e con la produzione dei blocchi c'è una ricompensa in DOT, parte di quella ricompensa viene distribuita chiaramente ai nominatori. Una differenza importante con blockchain come Ethereum, la Binance Smart Chain, Polygon, Phantom e tutte queste qui, che vengono definite dei layer 1, è che la blockchain di Polkadot invece non è costruita per poter ospitare degli smart contract, e quindi delle piattaforme DeFi come Aave, come Curve, come tutte quelle che magari già conoscete, perché non è il suo obiettivo, infatti Polkadot è un layer 0. Questo vuol dire che Polkadot nasce con l'obiettivo di essere la base per la costruzione di altre blockchain sopra di essa, quindi mentre su Ethereum o su Polygon o sulla BSC, che sono delle blockchain layer 1, non devi costruire altre blockchain sopra di essa, ma semplicemente degli smart contract al di sopra, su Polkadot non funziona così, cioè su Polkadot bisogna costruire, tra virgolette, delle blockchain, queste blockchain sfruttano la sicurezza generata da Polkadot, e quindi questo è il vantaggio di costruire direttamente la propria blockchain su Polkadot, Perché? Perché le blockchain che si sviluppano sopra Polkadot non devono preoccuparsi del problema della sicurezza, che invece viene preso in carico dalla blockchain di Polkadot, tramite un sistema piuttosto complesso di, appunto, validatori sulla blockchain di Polkadot, e quelli che prendono il nome di collators sulle varie parachain, che servono semplicemente per prendere le transazioni nelle varie parachain, e restituirle ai validatori della blockchain di Polkadot, che poi andranno a creare i blocchi e quindi generare la sicurezza del network. Quindi, senza star a complicare troppo le cose, immaginatela proprio come se ci fossero dei, tra virgolette, validatori che in realtà prendono il nome di collators sulle varie parachain, ma questi collators non si preoccupano della sicurezza, semplicemente prendono le transazioni e le inviano ai validatori della rete Polkadot, che poi, sì, invece si preoccupano della sicurezza del network in generale, quindi di Polkadot e di tutte le parachain adesso collegate. È importante capire questa differenza, Polkadot non è una piattaforma per smart contract, infatti su Polkadot non si possono scrivere smart contract, però su Polkadot possono nascere delle blockchain che supportano gli smart contract, e infatti già ci sono dei progetti di blockchain che vogliono costruire, sopra Polkadot, del blockchain IWM compatibili, che vuol dire Ethereum Virtual Machine compatibili, cioè le classiche, per esempio, per capirci, BSC e Polygon, soltanto che sono costruite al di sopra di Polkadot. Un altro dato importante è che tutte queste parachain sono compatibili tra di loro, questo vuol dire che è molto facile, molto veloce, trasferire gli asset tra una blockchain e l'altra, e questo è permesso grazie al framework che Polkadot offre agli sviluppatori, questo prende il nome di Substrate, che è costruito grazie al linguaggio di programmazione Rust, quindi non Solidity come su Ethereum, per intenderci. Questo framework dovete vederlo un po' come se fossero dei prefabbricati, quindi immaginate di dover costruire una casa, la casa è la blockchain, anziché dover prendere mattone dopo mattone e costruire tutta la casa, quello che si deve fare su Ethereum, per intenderci, su Polkadot, grazie al framework Substrate, è possibile prendere dei prefabbricati e usare questi prefabbricati per costruire la propria blockchain. Quindi immaginate, anziché avere i mattoncini, io ho già il tetto e devo solo scegliere che tetto usare, ho già le finestre, devo scegliere quali finestre voglio usare, quante ne voglio usare, di che forma, ho già le mura, e quindi diventa molto più semplice costruire una blockchain al di sopra di Polkadot. Detto questo, voglio anche dire a difesa di Ethereum che, benché è vero che su Ethereum vada costruita mattoncino per mattoncino, ormai esistono già delle librerie che vanno a costituire sostanzialmente un ambiente di programmazione molto simile, quindi con tanti oggetti che sono già prefabbricati e che quindi sono pronti all'uso per lo sviluppatore. Anzi, direi che proprio grazie alla storia più lunga che ha Ethereum, attualmente forse è anche più semplice andare a programmare su Ethereum. Ma questo semplicemente per una questione di storia, nulla vieta che poi all'atto pratico sia più semplice costruire una blockchain su Polkadot. Per quanto riguarda la tokenomics, la moneta principale si chiama DOT ed è una moneta inflattiva, in particolare una moneta che ha un tasso di inflazione tra il 9 e il 10% annuo. Non esiste un hard cap alla supply, nel senso che al momento la supply è illimitata, non c'è un limite, ma nulla vieta che questo potrà venire introdotto nel futuro. Infatti una cosa importante di Polkadot è che proprio per come è costruita è possibile aggiornare e modificare le regole del protocollo tramite delle speciali transazioni on-chain e quindi in futuro nulla vieta che ci sarà un hard cap, ma nulla vieta che proprio potrà cambiare anche radicalmente la blockchain di Polkadot e il proprio protocollo, proprio perché si dice che è facilmente aggiornabile, quindi a differenza magari di blockchain come Bitcoin, il cui aggiornamento richiede molto più lavoro, proprio perché c'è bisogno di un consenso univoco tra tutti i nodi, in blockchain più moderne come Polkadot questo è stato risolto e arginato. Tra l'altro vi voglio anche dire che Polkadot ha il proprio consiglio eletto on-chain e il consiglio ha una sorta di funzione di governo della blockchain e del protocollo e viene eletto comunque dagli utenti che detengono banalmente dei DOT. Adesso passiamo un attimo al computer perché vi voglio far vedere delle analytics, dei dati, e inoltre vi voglio anche fare vedere in primis come mettere in staking i propri DOT all'atto pratico. E in secondo luogo perché vi voglio far vedere come si può partecipare a quelli che vengono definiti crowd loan. Nel particolare prima di passare al computer vi dico che cosa sono, infatti per poter costruire una blockchain al di sopra di Polkadot è necessario vincere quello che viene chiamato uno slot. Nel dettaglio Polkadot avrà inizialmente 100 slot disponibili, quindi 100 blockchain che possono costruirsi al di sopra di essa, ma poi si espanderà e in realtà andrà a scalare molto di più, quindi inizialmente comunque saranno 100. Verrà messo a disposizione uno slot nuovo alla settimana e per poterlo vincere i progetti devono fare una sorta di asta, quindi chi offre di più si prende quello slot e lo vincola fino a un massimo di due anni, alla scadenza del quale dovrà rieffettuare l'asta al fine di poter vincere nuovamente uno slot. Che cos'è che si deve pagare per poter puntare nell'asta? Chiaramente dei DOT, quindi la moneta principale. E il bello di Polkadot è che i progetti che vogliono vincere uno slot possono richiedere, tra virgolette, l'aiuto del pubblico, nel senso che le persone possono utilizzare i propri DOT per agevolare un progetto che supportano a vincere uno slot disponibile, andando proprio a vincolare i propri DOT all'interno di quello che si chiama crowdloan. Crowdloan, infatti, anche all'inglese vuol dire semplicemente un prestito fatto dalle persone, quindi sono le persone che prestano i propri DOT al progetto stesso, permettendogli di ottenere più DOT da poter vincolare per vincere l'asta e, benché non sia scritto nel protocollo dei crowdloan, tipicamente i progetti che offrono dei crowdloan ricompensano gli utenti per partecipare. E quindi è interessante anche capire come poter, all'atto pratico, partecipare ad uno di questi. Vi anticipo anche che ad oggi non esiste nessuna parachain su Polkadot, e quindi Polkadot è a tutti gli effetti una blockchain attualmente vuota, nel senso che si possono solo inviare i DOT tra i vari indirizzi, ma non ci sono ancora blockchain costruite sopra di esse. Queste incominceranno a prendere il via, si stima a fine 2021, ma comunque attualmente non ci sono date di rilascio ufficiali. E su questo comunque vi manterrò aggiornati, se mi seguite su Instagram soprattutto, lo troverete principalmente anche lì. Passiamo adesso al computer. Voglio far vedere questo sito che si chiama Subscan, che è sostanzialmente un blockchain explorer per la blockchain di Polkadot, di Kusama e di tutte le varie parachain che esistono già ora su Kusama e che esisteranno nel futuro anche su Polkadot. Vi faccio notare infatti che se andate qua nell'angolo in alto a destra e premete su Polkadot, potete in realtà scegliere quale blockchain andare a selezionare. Nel particolare c'è sicuramente Polkadot, ma vi faccio notare che siccome su Kusama esistono già delle parachain, voi potreste anche andare a selezionare le parachain che già esistono, quindi che per esempio Karura, Moonriver, Scheiden, Kala e Bifrost oppure Kusama stessa. Adesso io sceglierò Polkadot, ma sappiate che su Subscan potete selezionare anche le varie parachain esistenti. Questo qui è un classico blockchain explorer, però ve lo voglio far notare perché presenta anche dei dati di Analytics, quindi innanzitutto quelli che a noi interessano sono quanti sono i validatori della rete Polkadot e sono 297. Questo numero non è altissimo, quindi non si può dire che attualmente è una rete altamente decentralizzata perché comunque ad esempio Solana ne ha mille e anche Solana comunque non è altamente decentralizzata. Certo non siamo ai livelli della BSC che ne ha 24, se non erro, però non siamo neanche ai livelli di Ethereum o comunque di Bitcoin che chiaramente per decentralizzazione non ha rivali. Il tasso di inflazione attualmente è dell'8,93% e in più qua potete vedere delle Analytics relative al circolante, che sono 352 milioni di DOT, alle monete che sono messe in staking ed è il 65% del totale e poi la restante parte sono il 2,9%. Tengo comunque a dire che il numero di validatori può essere aumentato tramite votazione on-chain e anzi molto probabilmente nel futuro si tenderà a continuare ad ampliare questo numero proprio per permettere una maggiore decentralizzazione del network. Adesso vi volevo far vedere come poter mettere in staking le proprie monete. Il primo metodo per mettere in staking direttamente i propri DOT è tramite sempre Subscan, andando nella sezione staking e premendo su nominate si possono andare a nominare fino a 16 nominatori. Se poi avete bisogno di dettagli vi lascio nella descrizione il link ad una guida che avevo già fatto su Polkadot che vi spiega meglio anche magari come poter valutare i validatori e quindi come sceglierli. Giusto per dirvi una cosa, i validatori che hanno il 100% di commissioni chiaramente non hanno senso perché vi trattengono tutte le ricompense. Infatti questo qua, se andate a vedere, è Binance e Binance trattiene tutte le commissioni perché se voi volete utilizzare Binance dovete farlo proprio su Binance. Potete usare direttamente anche il vostro NanoLedger per sia custodire i vostri DOT che metterli in staking sempre detenendoli in modo sicuro sul NanoLedger. Il secondo metodo per mettere in staking i propri DOT è utilizzando un exchange come Kraken o come Binance. Io personalmente preferisco Kraken per mettere in staking i DOT ma c'è la stessa opzione anche su Binance. Nel particolare, su Kraken vi dovete recare nella sezione Earn andare a selezionare Polkadot a questo punto. Nelle azioni premete su Metti in staking selezionate Deposita Polkadot e il gioco è fatto. La ricompensa è del 12%, chiaramente può variare ma ormai è da direi un anno se non di più che è mantenuta costante al 12% e sicuramente è qualche punto percentuale più basso rispetto a se lo fate in modo autonomo quindi come vi ho mostrato prima su Subscan o se lo fate direttamente dal Ledger chiaramente ha il rischio di esporsi ad un sistema centralizzato come Kraken quindi vi state comunque fidando di una piattaforma ma sicuramente è tutto più semplice perché non dovete pensare a nulla farà tutto Kraken e nel particolare due volte alla settimana vi restituirà gli interessi che finiranno direttamente in autocompound. Crowdloan vi ho già spiegato prima che cosa sono quindi sostanzialmente è l'aiuto del pubblico se vogliamo vederlo in questo modo per permettere ad un progetto che ci piace di vincere uno slot e di creare quindi la propria blockchain su Polkadot o su Kusama. Io adesso vi voglio far vedere come a livello pratico poter partecipare ad uno di questi Crowdloan. Chiaramente siccome su Polkadot non esistono delle parachain al momento e non sono in atto delle aste per le parachain che tra l'altro prendono il nome di parachain auction che vuol dire semplicemente asta vi faccio vedere quello che è successo per Kusama molto probabilmente sarà esattamente la stessa cosa su Polkadot quindi io ve lo faccio vedere su Kusama ma si rifletterà speculare anche su Polkadot e nel particolare vi faccio vedere due progetti che hanno già vinto uno slot che sono Karura e Moonriver. Veramente molto semplice poter partecipare ai Crowdloan la prima cosa è che dovete avere i vostri dot o in questo caso i vostri Kusama KSM nel vostro wallet personale che quindi può essere polkadot.js che è quello che utilizzo io si tratta di questa estensione su Chrome ma esiste anche un wallet per cellulari che se non erro si chiama Polkadot wallet col quale potete partecipare una volta che avete i vostri dot o i vostri Kusama sul wallet vi potete recare sul sito ufficiale del progetto che avrà una sezione dedicata al parachain auction e in particolare una sezione dedicata ai Crowdloan ed è veramente semplicissimo perché vi basterà premere sostanzialmente sul pulsante che adesso ovviamente qua non si può vedere ma immaginate che al posto di check rewards ci fosse stato deposit o comunque partecipa alla Crowdloan selezionate la quantità di dot o barra Kusama che volete depositare nel Crowdloan e a quel punto il gioco sarà fatto mi raccomando attenzione perché gli scam sono all'ordine del giorno su queste cose qui quindi tenete sempre bene a mente il sito che state controllando e utilizzate i canali ufficiali soprattutto Discord e non utilizzate dei siti magari che vi sembrano un po' farlocchi perché se non state depositando i vostri dot nel corretto modulo del Crowdloan li state praticamente regalando a qualcun altro una volta depositati sia qui su Karura vedete che su Moonriver era la stessa cosa basta andare sul sito ufficiale c'era proprio la pagina destinata ai Crowdloan dove vi spiega innanzitutto come poter fare e in secondo luogo anche quale sarebbe stato il vostro ritorno se aveste partecipato al Crowdloan quindi aiutando il progetto a vincere uno slot per esempio Moonriver distribuiva circa 14 ha distribuito anzi 14 MWR che è il loro token per ogni Kusama depositato Karura ha fatto una cosa simile quindi adesso non ricordo qual era il tasso di conversione ma per ogni Kusama depositato c'erano dei car che venivano chiaramente erogati a chi partecipava vi voglio anche far notare perché non l'ho sottolineato prima che al termine dello slot che su Kusama può durare fino ad un anno mentre su Dot può durare fino a due anni i Dot o i Kusama che voi depositate nel Crowdloan vi tornano indietro quindi state facendo un prestito della durata massima di due anni questi Dot alla fine vi torneranno indietro questo è molto importante perché non è un ICO dove voi state comprando il loro token ma lo state prestando per due anni chiaramente rinunciando eventualmente al costo opportunità di avere i propri Dot in staking oppure da altre parti quindi quello che loro vi danno dovrebbe contribuire quantomeno a controbilanciare il costo opportunità di non avere i Dot per al massimo due anni quindi questo ve l'ho fatto vedere è veramente molto semplice magari quando usciranno le parachain su Polkadot se vi interessa vi farò vedere effettivamente come poter partecipare ai vari progetti ma ancora una volta vi voglio far notare che sempre tramite Kraken è possibile partecipare ai Crowdloan delle parachain perché nella sezione Earn c'è una sezione dedicata completamente alle parachain e in modo del tutto ancora una volta centralizzata ma chiaramente molto più semplice perché si fa tutto sempre all'interno di Kraken voi qua vedete le parachain disponibili chiaramente alcune hanno già vinte quindi non sono più disponibili attualmente ma tutte quelle che vedete open potrete andare a contribuire con i vostri in questo caso siccome si tratta di parachain su Kusama con i vostri KSM quando usciranno quelle di Polkadot probabilmente ci sarà una sezione per Polkadot quindi parachain Kusama parachain dot e voi andrete a vincolare i vostri Dot all'interno di questo modulo quindi veramente molto semplice perché è tutto all'interno di Kraken e i rewards quindi i token che vedete estimated rewards i token che vi verranno distribuiti per aver partecipato al crowdloan vi arriveranno direttamente sul vostro account di Kraken io penso in realtà che per Polkadot questo avverrà anche su Binance quindi probabilmente anche Binance avrà una sua sezione dedicata alle parachain crowdloan però attualmente per Kusama questo non è avvenuto su Binance quindi su Kraken vi garantisco che questo è avvenuto infatti lo potete vedere anche adesso quindi ragazzi il video finisce qui spero che vi abbia interessato vi ricordo ancora di mettere un bel mi piace al video e supportarmi anche iscrivendovi al canale seguitemi anche su Instagram dove siamo già una bella community e ogni giorno pubblico del materiale che potrebbe esservi utile io ragazzi vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao